Allora Maria aspetta lei girare la ruota della fortuna via tutto il giro deve fare la ruota 75 è un bel punteggio che fa si ferma la sua maria via ci prova massimo detto fiffi fiffi ma stava un pochino più di forza se l'avresti fatta via comunque l'altro giro 55 maria resiste con i suoi 75 punti ce la fa era 55 certo arrivederci maria e alla grande ce la fa 80 ora aspetta a debora lottare per andare in finale vai Ah guarda debora sono stato un po' sfortunato devo dire guardate dove bastava nulla che andava sul centro un altro giro per debora vai Che peccato prima era l'occasione d'oro ciao debora buone rientro alla mezza perle ciao Fiffi Fiffo Fiffo No no perché dico Fiffi Fiffo E' il nostro secondo finalista Fiffo spostati un po' più in là Ecco così bravo guarda Roberta vorrei vedere posso? Eccola lì Roberta Allora Fiffo Te la vedrai con Roberta tra pochi minuti 1, 2, 3, 4